E intanto gli Stati Uniti sembrano sempre più intenzionati a inviare in Ucraina i loro carri armati Abrams. L'annuncio potrebbe arrivare a giorni. In diretta c'è il corrispondente Claudio Pagliara. Sì, anzi l'annuncio dovrebbe arrivare oggi stesso. Tutte le fonti che trapelano qui dalla Casa Bianca dicono che Joe Biden, il presidente, annuncerà l'invio dei carri armati Abrams in una mossa evidentemente coordinata con l'alleato tedesco. Secondo le fonti che abbiamo raccolto sarebbero una trentina gli Abrams che gli Stati Uniti si apprestano a consegnare alle forze del presidente Zelensky ma la stampa spiega che potrebbero questi Abrams non arrivare in tempo per la battaglia di primavera perché richiedono un lungo addestramento e dunque probabilmente ci vorranno ancora mesi prima che possano essere dispiegati sul terreno la linea da Washington a Roma. Ed è durissima la reazione di Mosca che minaccia l'Occidente e annuncia esercitazioni navali. Per tutti gli aggiornamenti andiamo in diretta dal corrispondente Sergio Pagliari. Sergio. Sì, la mossa della Germania è molto pericolosa dice l'ambasciatore russo a Berlino mentre i carri armati americani Abrams in Ucraina bruceranno come gli altri ha dichiarato il portavoce del cammino Dmitry Pieskov che poi considera le minacce del consigliere presidenziale ucraino Podolyak su possibili attacchi contro città russe come una conferma che la Russia sia nel giusto. Alla ministra degli esteri italiani che in un'intervista aveva lamentato la mancanza di una vera politica estera e di difesa europea replica invece la portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova dice l'Europa si svegli dal letargo perché gli Stati Uniti la stanno trascinando in una grande guerra. Mosca si prepara quindi a un inasprimento dello scontro, conferma le esercitazioni navali a febbraio con Cina e Sudafrica e annuncia che intanto la sua marina militare ha testato con successo il nuovo missile ipersonico Zircon mediante una simulazione al computer sulla fregata Admiraglio Groschkov nell'Oceano Atlantico, Lina Roma.